buonasera bentrovati al tg11 iniziamo con brugherio dove ieri mattina un passante nel locale parco in crea ha notato e segnalato ai carabinieri un inquietante croce di legno di grosse dimensioni con la scritta 666 simbolo numerico del diavolo ai piedi della quale c'erano sul terreno segni di fuochi i carabinieri stanno indagando per capire se si tratti di uno scherzo di cattivo gusto o di fenomeno riconducibile alle messe nere ci spostiamo a monza dove l'amministrazione organizza due seminari gratuiti destinati ai giovani con esperti del consiglio notarile di milano il 13 ottobre 17 novembre in cui sarà spiegato come comprare casa senza rischi dal mutuo alle agevolazioni per la prima casa obbligatoria la prenotazione informazioni sul sito web www.comune.monza.it andiamo a vedugio dove il consiglio comunale ha approvato lavori di riammodernamento del locale centro sportivo dall'illuminazione del campo sintetico alla sostituzione del telo del campo da tennis dalla ricostruzione delle recinzioni alla manutenzione di spogliatoi e barra passiamo a besana in brianza dove continuano le polemiche dopo le dimissioni di alessandra albo direttrice del corpo musicale santa cecilia sfiduciata da parte dell'organizzazione all'opposto altra parte dell'organizzazione vorrebbe che la albo tornasse alla guida del corpo musicale concludiamo ricordando le farmacie aperte questa notte giovedì 6 ottobre nella provincia di monze della brianza per il distretto di brugherio sarà aperta la farmacia comunale 10 di monza in via ramazzotti 36 nel distretto di carate brianza la farmacia gatti di carate brianza in piazza 4 novembre 3 nel distretto di bovisio masciago cesano maderno limbiate varedo aperta la farmacia natale di binzago frazione di cesano maderno via manzoni 36 nel distretto di desio nova milanese mugio la farmacia galbiati di desio via dei partigiani 2 nel distretto di lissone sovico maccherio la comunale 10 di monza in via ramazzotti 36 nel distretto di me da lazate seveso la farmacia pirovano di me da via solferino 30 nel distretto di monza e villa santa aperta la comunale 10 di monza di via ramazzotti 36 nel distretto di serenio giussano la farmacia valtorta di giussano viale piave 19 nel distretto di vi mercate aperte la farmacia centrale di vi mercate piazza santo stefano 9 e la farmacia comunale di colnago frazione di cornate dadda via manzoni 2 queste informazioni sono state gentilmente fornite dall'associazione lombarda farmacie che ringraziamo grazie dell'attenzione appuntamento al prossimo tg 11 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti